Dopo anni di battaglie legali che hanno finalmente trovato un punto di svolta con una sentenza della Corte di Cassazione a febbraio, il team di avvocati di Massimo Bossetti, guidato da Claudio Salvagni e Paolo Camporini, ha ottenuto il permesso di accedere a prove cruciali, gli indumenti della vittima e i profili del DNA. L'opportunità di esaminare questi elementi chiave si presenterà in una sessione a porte chiuse, prevista per il prossimo lunedì pomeriggio. Consentirà ai difensori e ai consulenti di esplorare materiale che è rimasto sigillato per lungo tempo. L'attenzione sarà particolarmente concentrata sull'intimo femminile della vittima, dove è stata identificata una traccia genetica mista che coinvolge anche un individuo non identificato, noto come ignoto 1, una prova fondamentale nell'accusa contro Bossetti. Oltre a questo, l'attenzione si estende ad altri indizi, come la felpa che Yara indossava il giorno della sua scomparsa e il giubbotto trovato nel campo di Chignolo d'Isola, luogo in cui il corpo senza vita della ragazza è stato ritrovato tre mesi dopo. Si analizzeranno anche 54 provette di DNA che sono state trasferite dal frigorifero dell'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio del corpo di reato del Tribunale di Bergamo. Finalmente, dopo cinque anni dall'autorizzazione, ci sarà consentito di visionare i reperti, anche se già dal 27 novembre 2019 avremmo avuto il permesso di farlo, ha commentato Salvagni, parlando con ADN Kronos.